salve a tutti cari amici sono mario balì sono il fondatore del canale assi e bilancieri quest'oggi con un orologio molto particolare sia per quanto riguarda il brand che lo produceva la marca che lo produceva per le condizioni spettacolare di quadrante e cassa e soprattutto per il movimento che lo anima come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale lasciare like a spuntare la campanella delle notifiche perché molto importante visto che vi avvisa di nuovi contenuti video e soprattutto a lasciare un commento a farmi qualsiasi domanda come sempre vi invito a contattarmi sia via mail sia via telegram e al numero whatsapp che vedete apparire qui sotto quest'ultimo è più veloce posso essere più veloce nelle risposte e posso anche mandarvi se vi occorre o mandare voi delle foto in maniera più più veloce più rapida come sempre solo chi ha una storia da raccontare può essere raccontato vi lascio al video del crono labor con valgiu 22 a voi il video per accaparrarsi muove quote di mercato le case orologiere hanno sempre cercato di produrre i propri orologi abbassando i costi in passato questo si faceva chiaramente mantenendo una certa qualità ed è il caso dell'orologio che vi vado a presentare oggi abbiamo un labor cronografo dotato di un calibro valgiu 22 dico la verità quando mi hanno proposto l'acquisto di questo orologio era un po scettico perché sembravano i classici cronografi degli anni 60 in effetti con qualche prerogativa anziché avere il classico lander on 248 o 48 che sia qui abbiamo un valgiu 22 facendo un po di ricerche su questo movimento ho scoperto che è stato montato da molti marchi blasonati come per esempio taggoyer oppure omega o anche eberhard ed è proprio a quest'ultima che labor ha legato la sua storia sì perché labor è un marchio registrato dalla eberhard nel 1902 proponendosi di costruire orologi meno ricercati ma ugualmente di indubbia qualità eberhard questo lo fa affidandosi a dei mastri cassai che in effetti producono le casse per lei prendendo movimenti di fidata e di comprovata affidabilità e robustezza come vediamo l'orologio che presento è perfettamente conservato a dispetto dei suoi quasi 80 anni di età ha un calibro a carica manuale valgiu 22 con smistamento con ruota a colonne che ha una dolcezza di funzionamento tale che i tasti sembrano quasi andare a vuoto quando vengono premuti con il tasto d'ore 2 il cronografo parte si ferma mentre con il tasto d'ore 4 il cronografo si azzera e si resetta ad ore 6 abbiamo i secondi continui ad ore 12 i minuti cronografici come ci siamo abituati a vedere il primo settore i primi 10 minuti del cronografo del contatore delle ore sono divisi in tre spicchi proprio per aiutare chi all'epoca si serviva del telefono pubblico a capire quanto durava uno scatto telefonico il bel quadrante bitonale splendidamente conservato riporta una scala telemetrica all'estremità e poi le sue lancette azzurrate originali ne fanno un orologio davvero con un tocco di classe in più il vetro naturalmente plexiglass lanza e da 19 millimetri mentre per quanto riguarda la cassa è una 38 millimetri senza contare colore e pulsanti questo orologio mi è stato proposto da uno dei maggiori collezionisti d'italia ed è in condizioni davvero impeccabile il fondello a pressione bombato lo rende particolarmente comodo da indossare e certamente un orologio che non passa inosservato i tasti laterali ad oliva lo rendono davvero coevo con l'epoca e quindi in effetti abbiamo un orologio molto molto bello da indossare chiaramente labor ha prodotto anche altri calibri ma andiamo a vedere insieme il movimento che anima questo splendido orologio conservato in condizioni passatemi il termine strepitose per i quasi 80 anni di età apriamo il fondello fondello naturalmente fresato e firmato all'interno come era consuetudine di quegli anni e questo ci fa comprendere che un orologio realizzato davvero in maniera impeccabile il movimento come potete ben vedere valigiù 22 con la classica ruota a coloni che dà lo smistamento al cronografo è un 18 mila alternanze euro con 40 ore di riserva di carica e 17 rubini il bilanciere è munito di viti di compensazione senza sistema antiurto inca bloc come vi dico sempre come fare a capire quando un orologio è impeccabile beh lo potete vedere in queste immagini dalle teste delle viti che sono semplicemente perfette se fosse un orologio più nuovo potremmo affermare che sia un orologio che non è mai stato revisionato ma siccome ha 80 anni ed ha un funzionamento strepitoso per quanto riguarda sia lo smistamento della cronografia che per quanto riguarda la precisione possiamo dire che è stato trattato da mani esperte e revisionato alla perfezione il movimento sembra uscito ieri dal banco di un orologio di un costruttore e si presenta in condizioni impeccabili questi cronografi sono abbastanza rari da trovare in queste condizioni sì perché in effetti Valjoux 22 equipaggiava calibri molto costosi orologi molto costosi e quindi non è semplice trovarne in buone condizioni come questo e soprattutto non è semplice trovare degli orologi che con una marca a dir poco sconosciuta montavano calibri così blasonati questo calibro Valjoux 22 pensate è stato prodotto per la prima volta nel 1936 e tra le altre caratteristiche che abbiamo potuto notare che vi ho citato vanta anche una spirale con piega breguet quindi in effetti un orologio di assoluta qualità questo dimostra che quando le case volevano fare e vorrebbero fare orologi che costano il giusto e che conservano un'ottima qualità possono riuscirci tranquillamente spesso quando si comprano questi cronografi il 90 per cento della valutazione viene attribuita semplicemente al movimento come nel caso del Valjoux 22 infatti un movimento Valjoux 22 perfettamente funzionante tenuto in condizioni simili vale almeno 550 600 euro l'orologio lo potete trovare lo potete collezionare a cifre che si aggirano tra le 700 e le 850 euro e sono cronografi sono modelli di orologio che stanno tornando prepotentemente in voga perché sono belli sono di qualità e possono essere indossati tutti i giorni senza alcun problema cari amici cosa dire l'orologio è in condizioni come avete potuto vedere strepitose l'ho praticamente assegnato senza nemmeno recensirlo perché davvero in condizioni ottime è andato ad un gentilissimo amico della provincia di Brescia che saluto tantissimo il mio amico Cischi e niente una storia molto interessante un orologio molto bello come si fa a trovare orologi in queste condizioni ci vuole molta 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 pazienza come vi dico sempre mai improvvisare mai acquistare sull'onda delle emozioni ma aspettare perché ricordatevi che il migliore orologio il più bello che potete acquistare è quello che non avete ancora acquistato così come il migliore affare che potete fare nella vostra vita come sempre continuate ad iscrivervi al canale a sostenerlo con un like con un commento e a contattarmi ai numeri che vedete in descrizione che vi ho postato nell'anteprima come sempre solo che ha una storia da raccontare può essere raccontato ci vediamo al prossimo video ciao a tutti